Sindaco Di Primo, qual è la situazione a livello infrastrutturale in città? Lei ha preparato questo report che girerà al Ministero. Qual è la situazione e quali sono le criticità se ci sono? Le criticità ci sono, sono necessarie attività di manutenzione ordinaria e anche straordinaria su alcuni nostri viadotti. Dico subito che non ci sono pericoli di tenuta dei nostri viadotti, ma lo dico anche sulla scorta di un'indagine meramente visiva, cioè di un'ispezione fatta dai nostri tecnici in questi giorni. D'altronde rispondere a un atto di vigliaccheria istituzionale, così l'ho definita io, la lettera del Ministero che chiede a 8.000 comuni italiani in 5 giorni di dire in che consistenza, quale sia la consistenza del proprio patrimonio infrastrutturale, non era facile. Ma abbiamo comunque risposto, abbiamo risposto perché conosciamo ovviamente il nostro patrimonio, sarebbero necessarie indagini strumentali, quello sì, ma oggi noi possiamo dire che sulle 20 infrastrutture che sono di competenza del Comune di Chieti, gli interventi da farsi ammontano in termini di costo a 4 milioni di euro. Abbiamo necessità di intervenire sul sottopasso di via Momano, che è interdetto anche al passaggio pedonale, e lì avremo bisogno per davvero di fare un intervento urgente per dare risposta alla popolazione di Brecciarola. Abbiamo necessità di intervenire però su due viadotti importanti che ogni giorno vengono attraversate da migliaia di auto, che sono quello di Madonna delle Piane, e quello di via Gran Sasso. Su questi due viadotti gli interventi sfiorano i 2 milioni di euro come costo. E poi c'è da fare un qualcosa che manca, a mio avviso, in quasi tutte le infrastrutture della nostra regione, nonostante i fatti dell'Aquila, o forse oggi sono necessari proprio dopo i fatti dell'Aquila, cioè la vulnerabilità sismica delle strutture. È soltanto per questa, sui 20 viadotti, noi stimiamo di avere necessità di almeno 500 mila euro. Tutto questo è possibile soltanto se veniamo finanziati, perché le politiche dei vari governi che si sono succeduti fino ad oggi, che hanno tagliato risorse ai comuni, ci impediscono di poter anche pensare di affrontare queste spese con finanziamenti e con soldi del bilancio comunale.